Bene, pronti a partire allora? Partiti! In vantaggio Sanson davanti a Eric The Fighter, Alabama Song, Tarbush e Jack Lantern. Dopo 200 metri di corsa passa Tarbush davanti a Sanson, Eric The Fighter, Jack Lantern ed Alabama Song. Prosegue in vantaggio Tarbush davanti a Sanson, Eric The Fighter, Jack Lantern ed Alabama Song. All'inizio della curva, posizioni invariate con Tarbush in vantaggio davanti a Sanson con all'esterno Eric The Fighter, a seguire Jack Lantern ed Alabama Song. Poco prima dell'ingresso in vantaggio Tarbush davanti a Sanson, Eric The Fighter e Jack Lantern. I cavalli entrano in vantaggio con Sanson e Eric The Fighter in vantaggio davanti a Jack Lantern, Tarbush lungo la corda ed Alabama Song. All'interno è Tarbush, all'esterno Sanson e Jack Lantern, seguono Eric The Fighter ed Alabama Song. Passa Eric The Fighter davanti a Sanson, Tarbush ed Eric The Fighter. Torna in vantaggio Sanson davanti a Jack Lantern e Tarbush. E Sanson è il primo vincitore. Torna in vantaggio Grazie a tutti